Certo cerco di dare il mio contributo, lei ci mette il suo, molto meglio lei di me, però nel piccolo cerchiamo di dare una mano perché comunque la Salus e il maestro Alberto l'ha fatta diventare una famiglia e la famiglia si sa si dà il cuore per la famiglia. Grazie mille! Grazie mille!